Nella terra di mezzo tra la politica e l'informazione l'anziano mago Scalfar ha attaccato il premier con le dieci domande Domande che richiedono risposte Affidandosi al fedele Ezio Mauro Un altro mago, il temibile Feltri, si serve di dossier compromettenti Dobbiamo svolgere un lavoro E scatena il suo vice Sallusti Manda i tuoi mannari selvaggi Nelle redazioni si produce fango E le teste cadono con facilità Il direttore di panorama combatte contro la escort patrizi Hai destrezza con la lama Il direttore di chi custodisce a scoop di grande valore Il mio tesoro E ha un buon rapporto con il suo editore Il padrone è mio amico Anche il guerriero Travaglio scaglia i suoi strati Non possiamo intuciare I materiali incandescenti sono trappole insidiose E nessuno è al sicuro Il nemico ha molte spie al suo servizio Eugenio Scalfari, Ezio Mauro, Marco Travaglio, Giorgio Mulè, Vittorio Feltri, Alessandro Sallusti e Alfonso Signorini I signori dei tranelli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti